www.redigio.it e la storia continua miti e riti in milano la casa dell'eco l'angelo di san gottardo l'angelo minaccioso e la voce nella peste la casa dell'eco all'estremità della via principe eugenio quasi a ridosso del parco ferroviario sorge la famosa villa simonetta che si deve il nome a una delle tante famiglie cui appartenne successivamente anche e soprattutto per il merito di una clelia simonetta che la voce popolare diceva avesse fatto uccidere molti dei suoi ospiti e amanti la virla fu eretta alla fine del quindicesimo secolo era detta allora villa gualtera dal nome di gualterio bascape cancelliere di ludovico il moro e ricostruita nel 1550 e dopo varie traversie era diventata di volta in volta asilo di colerosi cotonificio fabbrica di candele officina meccanica falegnameria caserma ed ebbe il colpo di grazia nel 1943 con i bombardamenti che la semi distrussero rifatta dopo tanto scempio nel 1962 ospita oggi una sezione della civica scuola di musica fu celebre nell'ottocento per due motivi per un clamoroso pranzo che la compagnia della teppa vi organizzò dopo aver rapito una dozzina di nani e altre tante dame e che avrebbe dovuto culminare in una sorta di orgia ma si scatenò una violenta rissa fra i teppisti in nani in foia e le damme atterrite e con l'arrivo finale dalla polizia che arrestò tutti l'altro motivo della rinomanza della villa era una favolosa eco che si diceva albergasse nelle sue stanze una parola era ripetuta fino a 30 50 o addirittura fino a 75 volte i milanesi che la visitavano chiedevano ma come se fa ad aveggisci tanta bella roba e lei corrispondeva più volte roba 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 oggigiorno purtroppo dopo le ultime ricostruzioni anche l'eco non c'è più è stata rubata anche essa un altro mito l'angelo di san gottardo sul campanile della chiesa di san gottardo a palazzo troneggiava una bella statua adorata dell'arcangelo michele che girava secondo il vento cigolando però penosamente la cosa disturbava enormemente ho detto di fu a conte di lotrec governatore di milano per francesco primo che non aveva peraltro il coraggio di farla battere perché si trattava pur sempre di un di un arcangelo il destro gli venne quando seppe che prigioniero nel castello era custodito un famoso bombardiere di ventura condannato a morte per tradimento recatosi al carcere riuscì a convincerlo con una sorta di scommessa a puntare il cannone verso il campanile se avesse colpito la statua a primo colpo sarebbe stato liberato e fu così che l'arcangelo sul campanile perdette la testa un altro mito l'angelo minaccioso quando nel 1511 i lanzichenecchi stavano mettendo a ferro a fuoco milano non rispettando neppure le chiese e monasteri giunsero una notte presso le grazie e cercarono di penetrare nel convento ma il portale non cedeva un gruppo di soldati più scalmanati mentre altri recedevano dal loro tristo proposito si disposa a scardinarlo già c'erano riusciti e stavano per oltrepassare la soglia quando furono abbagliati da una luce terrificante e apparve loro un angelo che con una spada li minacciò facendoli fuggire terrorizzati il convento non venne violato e per ricordare miracoloso intervento venne edificata la chiesa dell'angelo e un altro mito che è la voce nella peste nel settembre del 1630 la terribile malattia che aveva contagiato milano provocando migliaia di morti era il cummine della sua virulenza una notte nel convento che è già stato nominato mentre i frati riposavano nelle loro celle si udì improvvisamente il suono delle campane che si misero a suonare distesa senza che nessuno le manovrasse impressionati i monaci sentirono poi una voce sovrannaturale che disse distintamente avrò pietà del mio popolo o madre come se fosse stato gesù che avesse risposto a una intercessione intercessione fatta dalla madonna per i milanesi dopo qualche giorno la peste cominciò a diminuire di intensità a proposito di peste di voce si narra che nel trasporto dei morsi verso morti verso il foppone su carri o nelle fosse comuni capitasse che qualche disgraziato morivondo ritenuto invece defunto e mettesse qualche lamento magari invocando aiuto i monatti lo finivano impietosamente a randellate murmurando tra loro dagmingatra a senti lor in mai morta se non dagli retta a sentire loro non sono mai morti abbastanza www.redigio.it e la storia continua